Mediterraneo come luogo di dialogo e di pace è il tema al centro della riflessione della Facoltà Teologica Pugliese che insieme all'Università degli Studi di Bari ha organizzato nell'Aula Aldomoro di Giurisprudenza l'incontro dal titolo sulle sponde del Mediterraneo Teologie e prassi di dialogo, di inclusione e di pace. Al convegno ha partecipato anche la Presidente CEI, Cardinal Matteo Zuppi. Credo che la saggezza, la sapienza, la storia, la geografia ci chiedono di avere questo ruolo e di aiutare l'Europa a capire il Sud, l'Europa a restare unita all'Est e a rifare di questo nostro mare il mare nostro e non un mare che diventa un mostro. Sulle ultime tragedie nel Mediterraneo, a steccato di Cutro e a largo delle coste libiche è intervenuto anche l'arcivescovo di Bari-Bitonto, Monsignor Giuseppe Satriano. La conformazione del Mediterraneo evoca con chiarezza che non possiamo più gestire le politiche immigratorie in un atteggiamento difensivo. Purtroppo negli ultimi 20-30 anni questo discorso non è stato affrontato da nessuna compagine politica in maniera attenta. Sapendo invece e potendo anche integrare e includere questo fenomeno in un percorso di sviluppo della nostra società con tutte le esigenze che questo comporta ma anche con tutte le opportunità che questo potrebbe far scaturire. Quindi io credo che il tema del dialogo, il tema dell'inclusività e il tema del mettere insieme le persone senza paura credo che sia un tema che dobbiamo rimettere all'ordine del giorno.